Easy Gamer, time to play Ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo episodio di Tomb Raider 3 Un po' in anticipo, perché come sapete io cerco di alternare una volta Tomb Raider, una volta Resident Evil 4, una volta Toy Story, una volta GTA 4 Però, visto che mi sta piacendo molto la saga di Tomb Raider 3, ho deciso Beh, oggi registro Tomb Raider 3 di nuovo, dai, visto che ve lo state godendo alla grande Proseguiamo con Cancello di Lud, e che dio, c'è una mani buona Con questo fischello facciamo una corsetta Eh, arrivo prima io, arrivo prima io, tiè, se è trappolento, se è trappolento Ok, scegliamo la porta di sinistra prima, così possiamo recuperare un segreto Mettiamoci qui, e poi adesso dobbiamo scivolare e fare un saltino orientandoci verso destra In modo da superare un soffitto spinato che ci verrà incontro Quindi facciamo un saltino così, ok, ci è andata bene Altrimenti quei chiude avrebbero infilzato l'aria in meno modo, non ci conveniva E qui c'è il segreto, quindi un bel saltino qui Lasciamoci scivolare Il filo spinato ci ha colpito un po', però vabbè, dai, non ci ha fatto molti danni Dobbiamo saltare un istante prima Ma vabbè, sono dettagli Ok Finché non si schiatta è una cosa buona Allora, cosa ci dà il segreto? Un medikit grande che ci pigliamo assolutamente Poi ci sono anche dei bengala Poi dobbiamo rampicarci qua sopra Qua non ce la facciamo, ok Good Poi ce la rampicchiamo qui sopra E poi dobbiamo andare di là È una cosa facile, Angelo Quindi vediamo di non cadere Possibilmente Ok Andata bene Adesso torniamo indietro Premiamo questo pulsantino che abbiamo ignorato prima completamente E possiamo scappare da questa botola che si è aperta Adesso ci spetterà una lunga scalata Prima di tutto però andiamo a recuperare un medikit grande che c'è dietro di noi Da questa parte Che praticamente ora ci troviamo dalla porta a destra Prima siamo andati verso la sinistra per prendere il segreto E ora eccoci qui dall'altro lato Allora, cominciamo con questa scalata lunga 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 Che ci permetterà di recuperare prima di tutto un altro segreto Poi altri oggetti, tra cui un cristallo della salute E poi di andare avanti ovviamente Allora, andiamo verso la luce rossa Eccola qui Qua dovrebbe andare bene Ci vuole un saltino all'indietro Con capriola Così ci aggrappiamo alla scala Ottimo Poi Arrampichiamoci C'è la sera? Ah, sì, sì, sì Giusto Così non si voleva arrampicare Comunque, ecco qua l'altro segreto Siamo già a due segreti Ottimo Ora, lasciamoci scivolare delicatamente all'indietro Andiamo verso metà scala Oh, 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 oh Stavo per cadere Qui dovrebbe andare bene comunque Un altro saltino con capriola Aggrappiamoci alla scala Adesso dobbiamo andare verso una luce verde Se vogliamo recuperare altri oggetti È una cosa un po' pericolosa Perché si rischia di cadere Comunque, ci proviamo, va Dovremmo andare bene qui? Che non me lo ricordo mai Proviamoci, va No, non va bene E qui? Qui dovrebbe andare bene, forse Ah, ecco, qui è andata bene Meno male Ah, anche Lara lo dice Allora, adesso arrepichiamoci sulla scala di nuovo E possiamo andare avanti, finalmente Perché gli oggetti li abbiamo recuperati tutti Vai Lara, ancora una piccola scarata Che siamo quasi arrivati Su, Allegra, su Dai, dai, dai Che non sei ancora stanca Dai Che voi sapessi Dopo Londra dobbiamo andare anche in Antartico Poi dobbiamo andare in Egitto Eh, poi morirai Si fa per dire Ripercorreremo un po' delle tue storie vecchie Insomma, hai ancora un po' da fare Poi dovremo andare a Parigi Eh, Lara Croft Per riposarti ce n'è di tempo Ok Dobbiamo andare fino in fondo Perché cosa? Per recuperare delle munizioni per fucilozzo Va bene Ci andiamo Che carognata, però Troppa strada in più Troppa Però sono sempre munizioni per fucile Io me le piglio Qua c'è anche una guardia Che faremo fuori dopo Ok Ecco qua le nostre munizioni Poi andiamo di nuovo indietro A metà strada stavolta Meno male, dai Sarà più corta La ci arriveremo dopo Ne vedremo delle belle Ma Lara che sei quasi arrivata Good Arrappichiamoci qua sopra Finalmente E c'è anche un medicoid piccolo Ottimo Sotto c'è una guardia Avete sentito i passi? Quindi noi ci arriviamo di un bel lanci grenade Così impara Lo facciamo a pezzi Nel vero senso della parola Tiè Fatto a pezzi Non provarci mai più Pistola Tra l'altro Quando dico pistola Piace a Zarios Perché è l'accento pugliese Che gli piace Gli fa ridere Non lo so Zarios Ti sparo con la pistola Tiè Mi ha fatto un'immagine Costituita a questo La mia foto Costituita Zarios Ti sparo con la pistola Con l'accento sulla O Bravo Zarios Bravo bravo Però ti posso sparare anche col fucile Attento Allora Prendiamo questo pulsante Quello lì che sta facendo Tappi Rulant E noi lo facciamo a pezzi Pure lui Ottimo Non provarci mai più Mi piace Il lancio granate qui Wow 17 colpi Almeno li sfruttiamo un po' Ah eccoci qui adesso Wow Intanto salverei Mi conviene Non ho salvato neanche una volta Per cui E parte la musichetta Quella che c'è anche in casa di Lara Nene Allora qua c'è un medikit piccolo Che ci pigliamo assolutamente Hanno pensato di nasconderlo Ma noi L'abbiamo trovato Allora Adesso dobbiamo rampicarci Qua sopra Poi Qua Bella questa musica Comunque Anche poi è inutile dirlo Le musiche di Tom Brady Sono tutte molto belle Allora Questo blocco adesso Dobbiamo spostarlo qui In avanti Vero Lara? Se ti muovi Sì Voleva andare un po' più al centro Però Va bene L'importante è che lo sposti su È successo qualcosa Allora Rappichiamoci qua sopra C'è qualcosa? No Fuori tempo massimo Comunque Vabbè Allora Adesso Devo andare qua giù Yes La salute Ce l'ho al massimo Quindi non mi servirà neanche Prendere il crisaro della salute Un bersaltino con incorsa Così ci aggrappiamo qui sopra Yes Lì c'è un crisaro della salute Come vedete Dall'illuminazione Però non ci serve Per cui Inutile allungare il giro Perché poi ci tocca Rappicarci di nuovo Non è il caso Ti so con la salute al massimo Abbassiamo questa leva E si è aperta con la porticina Adesso Torniamo indietro Dobbiamo andare verso i piani più alti Stavolta Quindi andiamo di qua Poi Un bel saltino laterale Di qua E poi Dobbiamo rappicarci da sopra Roba facile per noi Vero giubilleri? Basta dire così Che poi si schiatta Le classiche parole magiche Abbassiamo quest'altra leva Ah E si chiude quella porta Che ora ci permetterà Di rappicarci anche lì Quindi Dobbiamo tornare indietro Da questa parte Poi Poi Sì Di là E quindi possiamo rappicarci Vai Lara Su Che siamo a buonissimo punto Abbiamo finito il livello quasi Dai Insomma Ma è che ci siamo quasi Ok Perfetto Quindi eccoci qui Cosa ci tocca fare adesso? Salire lì sopra Cercando di non cadere Possibilmente Quindi Vai Lara Un saltino Good E un altro saltino Yes Qua si cade Vabbè Come al solito Cado sempre Che poi non c'è niente Ci hanno messo questa buca così Per bellezza Va bene Contenti loro Qua però ci sono degli oggettini Quindi pigliamoli Munizioni per fucile E Bengala Andiamo forte con i bengala Qui eh Ok Qua dobbiamo aggrapparci lì adesso Quindi qua salverei adesso Perché Schiattare è facile Basta un istante di Anticipo Che si chiatta il suolo E si schiatta brutalmente Per cui Vai 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 Ok ce l'abbiamo fatta Allora Qui troviamo la sostanza Mumificante per colpirla Eccola lì La vedete Vai un saltino in avanti Aggrappiamoci Brava Lara Brava Pigliamoci questa sostanza Che andiamo a consegnare Il domicilio Pure a quello lì Che ci apre la porta Finalmente Che bastardo Potrebbe aprirci Le basta no Ne Neanche ci conosce Deve farci il favore Cioè Dobbiamo fargli un favore A lui Bastava solo aprire una porta Niente di che E Ah qui ci sono Si sentono i passi Di una guardia Che ora facciamo fuori Brutalmente Anche sempre con lanciagranate Dove sta? Wow 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 Non fare il duro Hmm Sei solo Una massa di carne maciullata Adesso Tiè Ok Andiamo da questa parte Adesso No Non ti fermare Lara Non ti fermare Su Non sarai mica stanca? Dai dai Dove arriviamo adesso? Ah si Ecco Qua c'è un'altra perla Oh ma non mi arrendete mai eh? Tiè Oh qua si è avanzare con stile però Un saltino all'indietro E Puff Disintegrato Qui c'è un razzo Ok Praticamente alla porta Dove c'era la gente di prima Che era chiusa Non ce ne frega niente ma Quello che conta Che dobbiamo andare avanti Ci manca giusto un pochino di energia Giusto un pizzico Allora Lì c'è un cristallo della salute Ma io così quasi Andrò a prenderlo Sinceramente Tanto chi se ne frega Ma Visto che ci manca un pochetto di energia Qua la salute Conta moltissimo In questo livello Meglio avere un po' di energia in più Che un po' di energia in meno Tanto ci tocca fare solo un pochino di strada Mmm Bella telecamera questa Queste telecamere sono pericolose Corre Mmm Ok cristallo della salute Pigliato Adesso Dovrebbe passare un saltino semplice Salviamo Ok Saltino Good Adesso Piazza telecamera Non mi piace Adesso dovremmo andare Per recuperare un altro segreto Lì dove c'è quella piattaforma Quindi Dobbiamo fare Se mi ricordo bene Salvare prima di tutto Dobbiamo fare una cosa tipo questa Giusto? Sì C'è un medikit piccolo Ok E lì Ci passare un saltino semplice A tuffo magari A volo d'angelo Yes Mi ricordavo che si potesse farlo in effetti Adesso vediamo di non cadere qui Brava Lara Grappati Brava Ok E qua c'è il segreto Finalmente Vai Lara un bello sprint Perché è lontano Su 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 Siamo terrati anche bene Brava brava Finalmente il segreto Risale della saluta Siamo anche qui Questo non me lo ricordavo Ok Adesso saltiamo lì sopra Così ci facciamo meno danni possibile Ok E possiamo proseguire Ok Qua dovrebbe esserci un'altra guarda Adesso Ah dall'altra parte Vabbè Ammassa che giro lungo Senti i passi Tu fai una brutta fine Spiatta Boom Quanto mi piace uccidermi Quanto A quanti colpi siamo arrivati Quattordici Va bene Qua c'è ancora un segreto Quindi Grappiamoci qui Non vorrei dimenticarvele dopo Quindi preferisco prenderlo adesso Si tornerà la muschia Però Vabbè dai Tanto Ancora un razzo Good E un medikit grande Perfetto Noi lo accettiamo con molto piacere Indietreggiamo L'Ara Croft Indietreggiamo Good Adesso Arrampicchiamoci di nuovo qua sopra Prendiamo bene la mira Dovremo posizionarci qui Ottimo Dobbiamo spostare questo blocco All'indietro Così poi ci permetterà di arrampicarci sulla scala E il resto lo vedremo Intanto ci sono la recondizionata Perché fa un caldo bestiale Però mi sto congelando le gambe pure nel frattempo Perché Ho i pantaloncini Eh Ho i pantaloncini Sì Mi sto congelando le gambe comunque Le braccia pure Un po' esagerato con la temperatura Mi sa Però purtroppo come dico sempre Mi tocca chiudere Saracinesca e finestra Un po' perché viene la luce da dietro Che poi Fa vedere malissimo la webcam E un po' perché Da fuori vengono i rumori più assurdi Claxon Grida Bestemmie Perché sapete Quando stanno in mezzo al traffico Oh Come si dice a Bari Sono stangato Vabbè comunque lasciamo perdere Va Meno tenere tutto chiuso E sentite la mia bella voce Lasciamo perdere Va Allora Adesso andiamo di qua Ci sono ancora dei blocchi Che dobbiamo spostare Ora non mi ricordo l'ordine esatto Però Mi sa che è questo Questo va indietro Mi sa E questo in avanti È giusto L'ho seccato Meno male Qua c'è sempre il pericolo Di sbagliare Perché Come Sembrava quasi un'immagine a specchio Quindi Vabbè E poi neanche mi ricordo Potevo spostarlo in avanti Quest'altro blocco Neanche me lo ricordo Vabbè L'importante è che abbiamo seccato Va Ecco il segreto Avrei potuto recuperarlo anche adesso Come vedete Ne sarei anche ricordato Wow Angelo Fai progressi di memoria Vabbè lasciamo perdere Tanto ormai l'ho già preso Ok Vai Lara Arrampicati Così andiamo a dare questa Cavola di sostanza mummificante A quello lì Praticamente ci ritroveremo All'inizio del livello Ci apriranno la porta E proseguiremo dall'altro lato Ok Andiamo da questa parte Questa scena l'avevo già vista Andiamo di qua Ora Avendo spostato il blocco all'indietro Come vedete Abbiamo liberato il passaggio E rieccoci quindi All'inizio del livello Andiamo da questa parte Ciao pirloni Ringraziato che non vi disintegro Ecco qua Qua possiamo mettere La sostanza mummificante Vai Lara Mettiamola qui va E la porta si apriva Magicamente Ecco Bisogna mettere questa cosa qui Per aprirsi la porta Ok Qua salviamo Cancelo di loot Goat Splash Ora comincia la nostra aventura in acqua Quindi diamoci da fare Con questo piccolo veicolo Spara freccette Subacqueo Che ci permetterà di ammazzare anche Dei coccodrilli Fasigliosissimi Dei sub Vediamo di ammazzare quello Già che ci siamo Tie tie Schiazza Schiazza Good Si è schiattato brutalmente E te lo sei meritato anche Allora in acqua Possiamo recuperare un bel po' di roba Tipo queste frecce Dai Lara Dobbiamo andare anche a riprendere aria Su Qua c'è un crisiato della salute Vediamo se riusciamo ad andare di qua anche Dovremmo farcela Ancora frecce Eh ho poco ossigeno comunque Sto rischiando Dai che ce la possiamo fare Dai dai una bella notata veloce Che andiamo lì dove c'è Un po' d'aria Dai 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 Presto Dai che ce la facciamo Dai 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 Ne perderemo poco al massimo Vabbè dai È andata bene Potevo anche morire Wow Tettone di Lara Croft Vabbè salviamo va Perché siamo a buon punto Torniamo in acqua Perché non l'abbiamo ancora finito Accendiamo con mangana va Visto che ne abbiamo Qua c'è qualcosa Munizioni per Uzi Poi Qua ci sono anche delle frecce Mi ricordo Ecco qua Qua dovrebbe arrivare anche un altro coccodrillo adesso Il coccodrillo come fa Non fa più niente perché schiatterà Prendiamo un po' d'aria intanto Meglio non rischiare Riguardiamo le tettone di Lara in primo piano Good E oh ecco il coccodrillo Porca miseria Sei puntuale Cioè puntuale In anticipo proprio Altro che puntuale Ma adesso schiatterai Per punizione Non me ne andrò di qua Finché non schiatterai Tiè Bastardo schifoso Ma guarda un po' Che maleducazione C'è qualcos'altro in acqua Forse dalle frecce di dietro Sì 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 Freccette Eccole qua Ci ha tirato un po' mossa quel bastardo eh Neh È stato il suo ultimo passo però Così impara Ok andiamo da questa parte Oh Ma abbandoniamo il mezzo va Non ci serve più Per ora Ok recuperiamo ancora frecce Ottimo Anche queste Good Andiamo in acqua Qua tutto è tranquillo Vero Non ci sono nemici Di dietro c'è l'altro segreto Però potremmo recuperarlo solo dopo Qua c'è la leva Si apre con la botola Perfetto Che troviamo esattamente qui Ma cosa c'è poi? Un pulsante Una leva Me lo ricordo Ah un pulsante Ottimo Ah si apre con la porta Sì che si trova in acqua adesso Ok Tutto tranquillo insomma Quindi andiamo da questa parte Non c'è nulla da prendere Good Ah sì c'è un segreto da questa parte Quindi andiamo a pigliarlo Che ci offre Munizioni per Desert Eagle Perfetto Poi dobbiamo andare da questo lato Che c'è una leva abbastanza nascosta Devo dire La prima volta che ci ho giocato Non è che riuscivo a trovarla E non sapevo che casserola fare Poi ho trovato questo piccolo passaggio E finalmente Superai questa parte No questo è un livello bastardo Ok si è aperta quell'altra botola Quindi possiamo andare Da questa parte Good Dai che ci sta finendo anche lo sigilo Dai Però dovremmo farcela Giusto? Yes Siamo arrivati Ok Adesso non dobbiamo farci vedere dalle guardie Andiamo così Non c'è nessuno qui Non c'è nessuno Sono come la particella della pubblicità Vi ricordate? C'è nessuno Non c'erano visti Splash Ho un cristiano della salute Buono Visto che ce lo danno Ed è gratis Ce lo pigliamo Continuiamo ad andare così Accovacciati Così non ci vedono Non ci sentono Poi scatterà lo stesso l'allarme Per cui a che serve? Non lo so Va bene Ok dovremmo andare tranquilli adesso Saltiamo qui Adesso uscirà una guarda all'improvviso E scatterà l'allarme Ma noi siamo armati di lancia grenade Anzi no Questo lo voglio ammassare col fucile adesso Chi è? Chi è? Ci lascia niente? No E' pure un tirchione Allora andiamo di qua Facciamo un sentinale indietro Good Lascia il sub anche Facciamo fuori Chi è? Chi è? Schiatta anche tu Dove sei? Schiatta? Amassi tre colpi E dacci la chiave Subito Questa chiave Ci sarà molto utile Ok Ora mi auguro che non ci sia il bug Che non ci faccia recuperare il segreto Perché mi ricordo che in alcuni casi C'è questo bug Che non ci permette di recuperarlo Spero che non sia nel nostro caso Anche perché non l'ho salvato Cioè dovrei partire da un po' indietro Mi pare Speriamo di nuovo Ah Intanto recuperiamo alcune frecce qui Queste Good Lì ci sono altre Sicuro Andiamo di qua Questa all'acqua però Quanto rompe L'abbiamo capito eh Vabbè tacci però adesso eh Vabbè in acqua non ci vado Vabbè se ne frega Se ci sono altre cose Voglio andare subito al sudo Verso il segreto E oltre Qui vado tranquillo Sì No Non di lato Beh fortuna che Non mi sono fatto danni eh Cioè pochi Limitati Cosa avrei meritato Va bene Allora Ah lì ci sono altre frecce Beh bene le vado a prendere Dai Siamo vicini Per cui Perché lasciate qui tutte sole Pigliamole Ok Adesso andiamo A recuperare quel segreto Speriamo Che dovrebbe essere Esattamente Qui in acqua Yes Splash Sì sì Le porte sono aperte Meno male Allora Pigliamo queste Munizioni Queste frecce Insomma Ammassa Quante ne sono Più medikit grande Crizzaro della salute Che per regalo Grazie Medikit grande Ancora frecce Ancora frecce Poi come vedete c'è di nuovo il mezzo Che abbiamo usato prima Pigliale Lara Pigliale Oh Che accendo le volevi Tutto fa brodo Alla cross Devi brigliarti tutto Tanto è gratis Anche questo veicolo Spara pioni Questo mezzo subacqueo Ok Beh qua possiamo salvare Direi adesso No E Salviamo E si parte Ok C'è un altro sub Qui Sì già lo vedo E mi spara le frecce Mi viene frecciatina Bastardo Ed è schiattato C'è anche il suo animaletto domestico Pesce rosso Ah no è un cocodrillo Vabbè Mi ricordavo un pesce rosso Eh magari Tiè E schiatta brutalmente anche lui Intanto qua andiamo a recuperare un medikit Perché no? Recuperiamolo Un medikit grande Perché lasciarlo qui? C'è la forza con ossigeno A tirare anche una leva? Che dovrebbe essere qui? Ma io ci provo va Anche se è un rischio bello alto Ai 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 È un rischio È un rischio Dai Lara vai Andiamo a prendere aria subito 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 Presto Qui sotto dovrebbe esserci anche un crisaro della salute Ah non ce l'ha anche servito Ok meglio così Allora ripigliamo aria Ora salviamo di nuovo Così se mi perdo riparto da qui Mi conviene Ok andiamo giù Dovremmo andare adesso Qui in alto? No Qua è chiuso Allora dove devo andare? Ecco lo sapevo che mi dovevo perdere Ripiglio aria ma Mi conviene Che poi se non ricordo male Ci sono anche dei bug qui Che ci permettono di respirare anche sott'acqua Dopo ci provo Ci sono dei punti che se non ricordo male Se ci mettiamo tipo verso l'alto Ci fa prendere un po' d'aria Forse di qua comunque Ah vedete? Eh eh Fa respira Ma mi sa che mi son perso Non è di qua Mmm Quanto odio sul labirinto in acqua Ah si è qua È giusto È aperto Vai Lara su Facciamo presto Vediamo di non abusare troppo di questo bug Perché non sempre funziona Tiriamo saleva E si è aperta quell'altra porta Ok Ripigliamo suo mezzo Torniamo su Dai dai Non ti impigliare Su Non è il caso Andiamo di qua Respira Respira Lara Respira Respira ancora Fa sempre bene Prendere un po' d'ossigeno Su Beh torniamo qua però adesso Va Prendiamoci tutto l'ossigeno possibile Ok Risalvo la partita Eh 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 Ok Adesso dovremmo andare Di qua Si spera? Sì È aperta la porta Meno male Un po' di fortuna Lo sto avendo qua però Perché di solito Sbaglio strada Allora Faccio un risale della salute Lo teneremo presente Per dopo Tiriamo questa leva Mmm Questo dovrebbe essere Proprio verso Diciamo la porta a destra Da dove prendiamo l'ossigeno Oh qua respiriamo Tiè 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 Schiatta tu Oh Li prendiamo l'ossigeno Li prendiamo l'ossigeno Vai Lara Ancora un po' No basta così Va bene C'è ancora un sub Ok Allora andiamo di qua Prima che riprendiamo aria Ci conviene Risalo ancora una volta Good Andiamo 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 Vai Lara Non ti pigliare Dovrebbe essere di qua Sì 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 Mi ricordo Andiamo giù Il coccodrello Sa alla fine Cioè quando torniamo Mi pare Perché qui ci torneremo Allora Andiamo verso l'alto Ammazza Quanta strada Fortuna che abbiamo Questo piccolo mezzo Perché farci alla nuota Sarebbe stato un po' Problematico Ok Eccoci qua Lasciamo il mezzo Per un attimo Perché poi Torneremo a prendercelo Per tornare indietro Ok Dobbiamo andare In acqua Da questa parte adesso Perché c'è una leva Da attirare Splash E anche qualcosa Da prendere Frecce Che ci sono tornate Utilissime In questo livello Non penso che ci serviranno Più in Tomb Raider 3 Almeno così tanto Come in questo livello Ok Tiriamo questa leva Così spegniamo Le fiamme sopra E possiamo passare Good Andiamo qui sopra Ok Saltino di qua Saltino di là Qua ci sono degli oggetti Yes Medikit Grande Che ci pigliamo Assolutamente Poi Munizioni per Uzzzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzz Torniamo qui Poi Un bel saltino lì Perfetto Ah Bene 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 Questa è quella Gioggio che serve Per schiacciare Il filetto di pollo Vi ricordate? Boom boom si vogliono schiacciare l'aria invece però noi facciamo attenzione andiamo con calma e non ci succederà niente non corriamo toh facilissimo facilissimo rappichiamoci qui adesso dobbiamo aggrapparci là sopra andiamo a recuperare prima degli oggetti poi lì dietro alla cascata useremo una chiave quella che abbiamo trovato prima vi ricordate? premeremo un pulsante apriremo un'altra porta sotto diciamo l'abirinto in acqua si alzerà anche il livello dell'acqua quindi non potremo più prendere l'ossigeno wow e mi sa che il trucco che ho stato prima non funziona neanche più in effetti allora qui ci sono degli oggetti bengala emulizioni per desert eagle perfetto ottimo andiamo di qua adesso lì in fondo non c'è niente per cui è inutile che ci andiamo dobbiamo aggrapparci piuttosto lì sopra ok andare verso la cascata aggrapparci lì ma allora che abbiamo quasi finito il livello so ci siamo quasi vai vai ok come vedete c'è una porta chiusa utilizzeremo la chiave per aprirla e dentro troveremo un pulsante che ci aprirà la porta sotto acqua e se non ricordo male è un crisolo della salute di questo non ne sono sicurissimo però vediamo chiave della caldaia caldaia ah c'è anche il cristallo della salute ottimo pulsantino si apre quella porta sotto acqua salviamo la partita possiamo andare va quindi ora possiamo riprendere il mezzo che abbiamo lasciato prima tornare indietro ci farà visita alcun cocodrillo me lo ricordo però o lo ignoriamo oppure lo ammazziamo pure lui ok torniamo su pigliamoci il mezzo un momento lara lo pigli che abbiamo da fare ti tiri indietro proprio adesso che siamo arrivati alla fine ok andiamo 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 cocodrillo sei da queste parti o decisi se dobbiamo venire più dai non ti pigliare allora non ti pigliare è quello lì il cocodrillo o ti togli o ti togli o ti ammazzo allora andiamo dove che non me lo ricordo di qua è giusto si dovrebbe essere di qua perché questa era chiusa prima e adesso è aperta ottimo dovremmo andare di nuovo in alto il cocodrillo lo lasciamo alle spalle ma si chi se ne frega va l'unico saprà vissuto di questo livello a parte noi perché abbiamo ammazzato tutti ma proprio tutti ok eccoci qua lì ci sono degli oggetti da prendere oh il cocodrillo ci sta anche inseguendo eh bravo bravo ma finché andiamo qua noi ce la siamo filata alla grande proprio almeno credo che punto è? è molto vicino? no ce la facciamo ma si faccia in acqua dai anche perché non l'abbiamo scelta dobbiamo andare qua salvo perché c'è una bella trappola che di solito mi piglia sempre allora facciamo così non mi ha pigliato per ora così mmm qual è il momento giusto? questo non mi ha pigliato ah ma non mi piglia proprio da qua non ci arriva meglio così allora ancora un saltino ed è fatta va lì in fondo c'è solo una guardia ma si lasciamo vivere anche quella va poi andiamo ad ammazzarla vado ad ammazzarla ah 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 ammazziamola tiè poi non c'è altro giusto? infatti non c'è altro qua non possiamo fare niente tipo mi ricordo che qua la prima volta andai tranquillo tranquillo e ne andai giù in malo modo veramente sfraganato di testa Lara Croft sfraganato the cap come si dice a Bari ok rampichiamoci qua sopra era uno sfizio togliersi cioè ammazzare quello lì volevo togliere proprio questo sfizio che male c'è? che c'è di male? ok andiamo qui sopra va che abbiamo quasi finito il livello su siamo arrivati proprio alla fine ormai ottimo qui tutto tranquillo si ok salviamo la partita perchè qua si rischia di cadere comunque un bel saltino good perfetto il segreto li ho presi tutti poi si spera eh penso li sei comunque non dovrei averli saltati non guardo neanche il cronometro lasciamoci la sorpresa alla fine del livello va quando ci dice tutto ok dobbiamo rampicarci la sopra e una volta ho superato questo abbiamo vinto anche stavolta risalvo mmm vai a dare un bel saltino yes alla fine Gilla Fatima aveva ragione non è che era proprio difficile il cancello di Ludd lo ricordavo peggio ok poi c'è anche Pietro che mi ha suggerito di fare degli speedrun addirittura wow comunque l'idea mi piace chissà in futuro potrei farli si fida ciecamente di me ha detto che sono bravo ha detto perché non puoi fare gli speedrun ci potrei provare prendere in considerazione l'idea gustiamoci il filmativo intanto qui c'è la gemella di Lara Croft bionda però che cosa un contratto con il vostro stile sareste la testimonia l'ideale per i miei prodotti oh ma davvero pensateci non avreste neanche più bisogno di queste antiestetiche armi no ma visti i vostri esperimenti mi ritroverei con una faccia insolita i miei cosa già sono ancora vivi e come se lo sono io voglio solamente l'artefatto e vabbè Lara te lo dà così ad essere l'artefatto lo vedremo eh Lara con l'episodio non puoi farci più di tanto purtroppo purtroppo allora cancello di loot cronometraggio 36 minuti e 45 non è tantissimo segreti scoperti 6 su 6 oh I feel good na 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 I feel good na 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 so good so good I feel good wow vede ragazzi siamo arrivati alla fine di questo episodio di Tomb Raider 3 grazie per avermi seguito se non riuscito a schiatare neanche questa volta se vi è piaciuto mettete mi piace se non vi è piaciuto mettete non mi piace insomma fate come il cacchio vi pare io vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 oh 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 oh